massimiliano bruno allora i migliori i migliori giorni peggiori giorni devono ancora venire perché nei prossimi dieci anni e i prossimi dieci anni tu come come immagini il mondo tra dieci anni fra robot intelligenza artificiale saremo dominati dall'intelligenza artificiale non si capirà più se una cosa è vera oppure è falsa e quindi sostanzialmente però verrà riscritta la storia io già vedo che c'è un'applicazione in cui l'altro giorno per scherzo ho messo che roberto baggio segnava il rigore contro il brasilia nel 1994 secondo l'intelligenza artificiale noi siamo campioni del mondo sei volte noi intanto abbiamo scritto romanzo digitale che non è stato scritto da una chart gpt da un bot ma per ora è stato scritto da un essere umano lo leggeremo poi fra dieci anni devi scrivere altro però è certo speriamo speriamo grazie auguri ciao